Now I'm angry Dai caca Moth Sto champion qua se si fida poi fa un gran casino Perché la gente tuttora anche Cioè la gente che non gioca a Way Non capisce cosa fanno le spell perché di un sacco di cerchi E di righe nel terreno E quindi nessuno capisce niente Ed è un grande vantaggio Cioè non sto dicendo che sia un campione incomprensibile Semplicemente se tu non giochi Way Pur giocandoci contro fai fatica Perché c'ha 9 spell e 10 spell diverse Cioè vedi cerchi Cerchi e striscioni per terra Non capisce Chiazzo c'è lì Si torna sempre dove si è stati bene Grazie OnlyFili Grazie del sub Io stasera sto molto poco bene Sia di salute Che sono influenzato Sia di teammates Che sono influenzati di un'altra malattia Tipo sto team mi piace di più Izrael è un campione che a me personalmente non piace Forse perché ho avuto Non perché Perché ho avuto probabilmente brutte esperienze Ho avuto molte brutte esperienze Ogni volta che lo beccavo Praticamente perdevo E Però Si può sempre sperare nella vita Dico bene ragazzi Pesso sta ward Perché penso a pusharsi E c'è Allora mettiamo il livello 3 Sono tornato come va la scalata male grazie mille Spartacus del sub ora spero sto game e torno smeraldo 2 75 lp chiede andy non perde ho mai finito il man aperte da quella doppia vabbè c'ha il biscotto però ah non l'ho stunnato flash sono qua a finire che succede un casino allora back ci prendiamo queste subito dobbiamo riprendere con l'ostro per le stelle aggressivo ecco non c'ha vita potrebbe essere un momento per fare questi stiamo facendo come possiamo aggancare sto tizio no non c'era la wave non potevamo oh non riesco a ecco e piega momento c'è stato qua nice che sfiga che ha avuto ok allora allora eh c'ha un po' capito è stato un po' sfortunato però non è un grosso problema allora per adesso si è messi bene abbastanza bene benissimo abbastanza bene i void groups sono ottimi io ho molta paura per il late di questo qua che rivereston per a tutti sono abbastanza ok prendo io questa adesso ignite oh sorry brother oh è pazzo è pazzo oh nice 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 ottimo ragazzi ma più che warwick moment è stato un ezreal moment cioè è stato molto bravo lì è stato molto bravo mi devo ricredere su ezreal ragazzi vieni qua figlio di puttana così devo giocare ragazzi devo giocare aggressivo oh oh ok ok basta ezreal non segue allora ci riteriamo dobbiamo prendere questi ottimo bello oh oh vedere se è salvabile oh shit che sfiga sono ancora al 5 in tutto ciò ho fatto il 6 in quel momento allora bec che dobbiamo andare a prendere questi no una control basta tenermi i soldi per l'oggettino ok no disastro no cioè alla fine abbiamo fatto cosa abbiamo fatto uno per uno per due due per no mi sa che abbiamo fatto uno per due quindi non è andata bene però è che tizio ci ha gancato subito lì è animo ce l'ha duro l'ho visto in tantissimi video che è fatto sto scemo scusa scusa sloggio subito voglio rubarti i platings momento aggressivo momento aggressivo poi gianni vieni qua che dobbiamo fare un discorsetto ok discorsetto eseguito aspettate devo andare a prendere lo zaino che andiamo in esplorazione let's go ok ora bot trick prossimo obiettivo grazie pira cavalla grazie del resub questo game lo stiamo giocando molto molto bene ragazzi molto 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 bene lo stiamo giocando no 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 te devi darti subito una calmata brother lo sapevo che avrebbe fatto quella cazzate ed Eziel è stato molto bravo che mi ha aspettato avete visto non ho visto che c'era anche lui va bene va bene se non fosse stato un uno sto un uno rompe il cazzo però giustamente è il suo lavoro tirare la palla e andare in giro allora situazione situazione che mi faccio questo voglio la movement speed voglio muovermi ci sta il drago da fare qua vado dritto in mid lane pure che intanto è bello bello grosso riesco a tirare le entrambe ok oh shit vabbè ok questo era il moment le ci perdiamo questo non sta che fa oh i gi tasti bravissimo aia via sta cacola schifosa qua ok herald molto bene vediamo l'insalata bene back becca sembra tutto tranquillo torniamo da lui ok oh si è arrabbiato oh oh eh non arriverò mai in time assolutamente no eh si c'è nu eh ferma gank il ragazzo dodge oh oh jesus christ ok 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 ahia ma da che distanza mi ha preso quella pianta dico come c'è finito lì vabbè ci penso lui la stittare adesso ma raga ma mi ha preso da scampia sembrava un attacco di senna se sembrava un attacco di senna ma che roba è vabbè obiettivi le abbiamo poi c'è ma shottato vabbè non ho magic resist ah minchia è l'oggetto da support sto coso qua fa un casino di danni c'è 66 più il 3% della vita che sono altre 60 cioè praticamente mi ha fatto 120 di danni soltanto con quello ok diamo un po' di fastidio ma perchè lui non lo sta picchiando o cazzo ah io sloggio c'è una quantità di nemici indescrivibile comunque vai ti ho mandato i miei sgorbi ah morti manca ancora buono polcene secondo me si cioè quello che faceva prima lo fa ancora è un po' indebolito devi stare più attento al mana il problema è il mana principalmente diciamo lasciare sto oggetto un po' ti punisce se starti con un oggetto che ti dà mana regen è buono secondo me non è male lo stesso oh shit avevo stunnato preciso senza vita peccato comunque cioè loro sono tutti insieme per rende mente sta cosa non me la spiego cosa non me la spiego devo lasciarlo oh guarda qua guarda qua sono nato no nice porca miseria l'aggressività della mucca di fieric ma che gli vuole che mi vuol che volete dire aspetta va che morto è morto mamma mia l'aggressività signori che vogliamo fa non vi piace il bar e non lo facciamo aggressivo oddio non approvo apparisce voi non potete essere aggressivi come me questo è chiaro però che non sembri si è entrato nel cervello non potete essere aggressivi come me eh o no ragazzi ho ragione o no c'è chi può e chi non può no di bench ma grazie mille alla vecchia di un paese che fa 80 mesi vecchia di nome di fatto aggiungerei oh oh ok ok ecco il game era troppo facile ah niente peccato pensavo fosse mi avessi messo alla prova invece invece è entratorato subito vai 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 perché no sono due bot so cosa sta lì a fare fiora ah cazzo c'era una guarda questo facciamo scomparire su ah si e me cazzo me ne frega toh qui è morto madonna ste piante di merda mamma mia che coppia che siamo ma facciamo noi due a fare sto coso io non lo so è perché way non ci ammana che dire ok c'è un attimo è stato un momento ambigua abbiamo punzecchiato sì io lo punzecchiavo con gli autoattacchi way lo punzecchiava con gli autoattacchi perché non aveva mana siccome zia non doveva andare lì c'era la soul cazzo guardi me way come potevamo ye way farcelo c'è s auto mana sì ma ce l'aveva era un po' greedy vabbè ora intanto videogioco un'altra partita come è giusto che sia ok ok allora che si fa ragazzi si cerca di fare il baron puri che è bot quindi adesso sicuramente no ti ha la guarda molto bene sono conto momento teso state qui classico è ovvio che rendono fece cara ragazzi oh che palle allora puntiamo al topo che adesso esce dalla tana oh oh questo è partito ok very 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 nice mia non l'ho rubato ok possiamo chiudere mi sa sì sì c'è solo più ora ok sto game ragazzi era proprio da manuale era manuale ragazzi finalmente un team che non tilta non flamma e non picca dei champion merdosi questo è assai incredibile morale della favola siamo cioè per adesso abbiamo fatto fatto un team che Grazie.